Che bella la vita! Non c'è niente di meglio che iniziare un weekend di libertà con una deliziosa colazione! Ci vorrebbe la Nutella! Solo buone notizie, Clara. Dica pure. Ci sono da fare venti esercizi di algebra e tradurre due temi dall'inglese al giapponese. Arrivederci. Uno cerca di non pensare alle disgrazie. Le disgrazie tornano a romperti i coglioni! Non sono in pace! Perché? Aiuto! Quanto odio la vita! Andiamo molto piano! Scusate il ritardo, sono caduto dall'autobus! Siediti e prendi appunti! Il diritto viene a procedere un cocomero! Ma se per una volta ho studiato e riesco a consegnare il compito per primo, mi danno del copione e perdono tutti la testa! Ehi, Pagliaccio, ma tutti questi soldi dove li prendi? Oh, è molto semplice! Sai quando tua madre ti chiede di portarle il resto? Io non lo faccio! Che stai facendo? Sono le 5 del mattino, dovresti dormire! Sto pensando ad un modo per diventare ricco e smettere di andare a scuola! Qualcuno è incazzato duro laggiù! Sai cosa ho imparato in due milioni di anni, Pippone? Se vuoi bene a qualcuno, lascialo dormire! Sì, dillo a mia madre! O ai miei amici! O alla vita! O ai miei amici!